eccoci qua anche questo pomeriggio quasi sera c'è un freddo da cane quale tempo sta cambiando però in sicilia anche ma detto che si sta peggio anche peggio purtroppo mamma una volta si diceva secondo me quando non c'eri ancora tu nella mente dei tuoi genitori c'è solo caldo e basta in sicilia la terra del caldo adesso è dell'acqua e adesso con tutti questi eventi climatici insomma è un po diverso in tutto il mondo quindi anche la sicilia risente di questi colpi purtroppo che toccherà dipingere solamente l'acqua acqua dappertutto sì sì che giorno è oggi lorenzo allora giorno è oggi è il giorno di san martino infatti oggi a pranzo abbiamo assaggiato cosa che in sicilia diciamo si fa in molti paesi il vino nuovo con i biscotti di san martino quindi diciamo è un'usanza che ancora in determinati paesi funziona ancora e quindi oggi abbiamo assaggiato il il vino nuovo di un mio collega con i biscotti tipici insomma del del paese che si fanno per san martino come sono fatti che hanno il cimino e no questi no e devo dire che ogni paese ha il suo alcuni mettono anche il finocchietto selvatico alcuni mettono altri aromi questi erano abbastanza neutri però devo dire abbastanza buoni poi nel vino insomma sarà che il vino era pure buono quindi comunque ha aiutato da noi di solito le castagne oggi se ne mangiano a quinta latte sì e qui in alcuni paesi pure o castagne e vino oppure biscotti di san martino con il vino insomma il vino c'è sempre è già è una cosa importante quindi 11 11 2021 ore 18 04 chiacchierata numero 311 numero 311 è arrivato luca che ti saluta grazie ricambia come ci siamo conosciuti e grazie a maurizio ganzaroli sempre quando quando farò un riassunto di tutte le dirette la metà delle persone con cui ho parlato e grazie maurizio e grazie arrivare un po da tutta italia mi era difficile ma con questa tra virgolette scusa di con chi ho chiacchierato mi può proporre anche altri artisti o persone qualsiasi no purché abbiano qualcosa da raccontarmi a me piace un sacco e allora si sta spargendo voce e io sono disponibilissimo quando è la prima volta che hai preso la spatola in mano o il pennello e allora io diciamo faccio parte di quella categoria di persone che la società chiama figli d'arte perché sono nato proprio e fin da piccolo io vedevo mio padre che dipingeva insomma durante il pomeriggio dopo cena nei negli orari liberi che aveva perché lui comunque è una è una passione che porta avanti da tempo è diplomato all'istituto d'arte laureato all'accademia belle arti di agrigento poi si è impiegato al comune quindi diciamo l'ha portata avanti sempre come passione quindi sia io che mia sorella fin da piccoli vedevamo insomma mio padre che dipingeva soprattutto io vedevo mio padre dipingeva perché ritraeva spesso mia sorella e quindi cosa che lì per lì non capivo perché chiedevo cioè mi chiedevo ma come mai non ne ritrae pure me e poi insomma con passare il tempo ho capito che il soggetto femminile è chiaramente molto più bello e molto più intanto bello da dipingere quindi da ritrarre e poi c'è insomma una sensibilità assolutamente diversa tanto che io nei miei quadri insomma anch'io dipingo sempre donne e quindi già dalle scuole elementari insomma ho iniziato a fare qualcosa di mio poi piano piano scuole medie poi ho fatto liceo artistico ai tempi istituto d'arte poi diciamo divenuto liceo artistico qualche anno dopo quindi diciamo qualcosa proprio di mio mio esplorando diciamo la mia creatività dopo il liceo comunque durante la fase del del liceo artistico però disegno e dipingo veramente da tanti anni e poi secondo me c'è un qualcosa anche di genetico legato alla terra perché sei nel triangolo delle bermuda te praticamente è circondato da da templi dovunque sì 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 esattamente anche perché io sono di san buca di sicilia che è un paesino piccolo ma nello stesso tempo molto bello è stato eletto borgo più bello italia nel 2016 quindi ha tantissime bellezze da far vedere ai visitatori ci sono tantissime persone che si occupano di arte di pittura di scrittura di poesia quindi comunque nascere in un posto che si è piccolo però ti offre la possibilità di conoscere tutti questi grandi personaggi uno ad esempio che ti posso nominare gian becchina che comunque conosciuto è ormai in tutta italia in tutto il mondo san bucese mio padre mi portava nel suo studio quando ero piccolo lui diciamo era già una persona anziana e quindi ovviamente porto sempre conservo sempre benissimo questo ricordo che ho di questa persona molto molto buona è diciamo un maestro come pochi perché tutto il 1900 lui era compagno di guttuso compagno di pasqualina lia noto quindi comunque personaggi che sono venuti anche a sambuca negli anni settanta gli anni ottanta quindi comunque frequentava delle persone molto importanti al panorama artistico del novecento quindi comunque c'era un grande fervore a sambuca e continua ad esserci poi altri artisti come vincenzo sciamea ad esempio che si è trasferito a roma e ma ha dipinto per tutta la vita e portato la sua arte in tutto il mondo quindi comunque sambuca da piccolo paese e oltre ad avere personalità insomma importanti e tanta gente che vive e che appassionata di arte si trova pure in un posto strategico perché molto vicina sia a palermo sia da grigento sia trapani quindi comunque eppure molto gestibile da questo punto di vista quindi come detto tu un triangolo della bermuda che se vuoi ti può offrire tantissime cose poi tu tra l'altro mi dicevi che sei pure mezzo siciliano quindi dalla parte proprio opposta se tiri una riga in diagonale lungo la sicilia secondo me arrivi proprio dove sul pane nel parco dei nebrodi dove vado io ok e certo io lo so frequentando in questo momento diciamo questo tutta questa zona diciamo dei nebrodi perché vivo in questo momento perché insegno io tra l'altro matematica e fisica in un centro un sacco di persone di nicosia che vanno al mare dove vado io ma una marea e certo 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 santo stefano forse tu sai si verso piraino gioiosa marea giudì la ghiacca di piraino però si c'è alla fine uno pensa la sicilia enorme sì ma in due ore tre ore sei dappertutto se proprio si vuoi andare da un lato all'altro in quattro ore però si fa un sacco di strada allora quello che manca in sicilia insomma oltre alle cose che si sanno diciamo una delle cose principali insomma è che molte zone sono diciamo sprovviste di autostrada ciò che questo ovviamente implica il fatto che devi percorrere per forza zone interne quindi questo ti fa perdere molto più tempo però effettivamente se tu prendi palermo catania ad esempio con l'autostrada in due ore e mezzo due ore e passi da un posto ad un altro quindi comunque che sono alla fine rappresentano due posti opposti insomma della sicilia perché uno lato orientale è un lato occidentale quindi come detto tu sì è grandissima però insomma si può girare tranquillamente con il buon tempo quanto c'è di sicilia nei tuoi quadri e di sicilia nei quadri c'è tanto c'è tanto perché diciamo che un un percorso che ho iniziato da qualche anno io una cosa che mi sono portato dietro dal dall'artistico insomma dalla mia passione anche comunque guardando mio padre dipinge quindi a tutte le esperienze di tutti gli artisti che mi hanno fatto conoscere lui e sono sempre stato innamorato del ritratto del figurativo quindi particolarmente anche se non il ritratto diciamo realista quindi quando sono uscito all'artistico ho iniziato a fare dei quadri di mia creatività di mia invenzione però lasciando sempre vivo il tocco relativo all'aspetto proprio figurativo e poi piano piano diciamo nel 2018 ho iniziato a creare questi sempre questo figurativo però facendolo trasparire degli sfondi abbastanza colorati come si vede da qualche immagine che stai proiettando dove siccome io tra l'altro oltre a essere un pittore diciamo sono pure un ceramista perché mio padre con mio padre avevamo acquistato un un forno per la ceramica e quindi siccome lui ai tempi si era il diplomato in ceramica all'istituto d'arte aveva questa insomma passione e capacità di lavorare la ceramica mi ha tramandato anche questo e quindi lavoro la ceramica e dipingo insomma anche su ceramica di questa sicuramente una cosa molto bella quindi ho cercato di portare avanti questa passione per la ceramica unendo tutte le maioliche le decorazioni insomma che generalmente si fanno sulle sulla ceramica però sulla tela quindi creando questi sfondi dove sono molto colorati appunto perché c'è spesso di inserimento di maioliche di decorazioni siciliane quindi questi colori molto accesi che fanno parte assolutamente della nostra terra della mia terra e poi sopra in trasparenza appaiono e scompaiono queste figure di donne principalmente e adesso diciamo negli ultimi quadri invece sto realizzando molti abbracci o molti baci quindi dove spuntano due donne oppure un uomo una donna oppure due due uomini e così via quello che stai facendo vedere infatti è uno dei dei quadri che ho realizzato l'anno scorso diciamo periodo di lockdown in cui ogni artista forse voleva rimanere bloccato in quel periodo perché diciamo non ho fatto altro che dipingere ed è stato veramente da questo punto di vista un periodo molto bello e qui ho diciamo ho dedicato un un'opera quest'opera a Ezio Bosso che è morto in quel periodo è un grande compositore musicista pianista italiano che ci ha lasciato insomma dopo tantissimi anni con una bruttissima malattia e quindi comunque cerco di accomunare questa passione per la ceramica per l'arte ci sono molte figure geometriche proprio perché sono laureato in matematica e quindi come professione diciamo o come passione faccio il il matematico quindi il docente di matematica e fisica di cerco di unire tutte queste cose nelle mie opere cercando di che tu parli io sto cercando una cosa che quando che ho fatto che ho registrato col cellulare adesso poi ti ti farò una sorpresa quando ero ancora in una radio locale a bologna l'anno scorso direi ok intanto come mai questo look simile al mio ma infatti l'altro giorno quando ci siamo conosciuti per la prima volta è stata la prima domanda e no la barba mi piace tantissimo poi devo dire pure la verità negli ultimi quadri tra l'altro dove inserisco il maschio siccome anche quando inserisco la donna è un po come se fosse come come se dipingessi l'anima femminile di ogni di ogni uomo sì quindi sia uomo che donna quindi un po quello della rappresentazione del di ogni nostra parte femminile perché ogni uomo una parte femminile ogni donna una parte maschile nella parte femminile quella la parte più bella di noi uomini quella che ti fa che ti rende anche sensibile sentimentale romantico e sensibile poi insomma tutti gli eventi che che ti accadono attorno e quindi siccome proprio come se ogni donna fosse un mio autorritratto femminile quando dipingo dei dei maschi degli uomini dipingo me stesso quindi faccio dei dei veri e propri autorritratti e in questo la barba mi aiuta perché comunque quando già zecchi il profilo e poi fai un cenno di barba è sicuro che le persone dicono che è lui sicuramente sotto questo punto di vista l'aspetto barbati ti aiuta molto soprattutto nel contratto diciamo iper realista o realistico quindi con pochi tocchi deve far capire chi qual è il soggetto quindi aiuta però insomma mi piace chiaramente a prescindere quando devi invece dipingere uno con la barba non è che lo male dici però è un po dipende la barba come se è troppo articolata insomma già diventa allora quest'estate quando scenderò partiamo dalla barba e poi andiamo in su e cioè tu la fai crescere ormai da tanto da tanto tempo suppongo due anni e mezzo circa e certo però per renderti la vita più complicata la faremo su una maiolica su una ceramica ancora ancora peggio ma ce la faremo quando guarda che è arrivato maurizio ciao maurizio il grande maurizio il grande maurizio se dovessi dipingere qualcosa adesso che sei lì nell'entroterra se a parte la vegetazione che è quella che spica principalmente cosa cosa dipingeresti ma proprio perché mi trovo in una zona che è considerata insomma poi è la verità è il centro quasi esatto della sicilia e penso che dipingerei sicuramente qualcosa che riguarda l'unione di due zone della sicilia insomma come se fosse un'unione tra la parte occidentale la zona occidentale la zona orientale quindi dipingerei sicuramente o un bacio o un abbraccio quindi proprio per accostare queste due parti della sicilia nel posto in cui sono che è la zona di enna che attualmente sto vivendo ormai da tre anni tra l'altro quindi spostandomi da paese in paese però vivo qui da tre anni che appunto un luogo che non ha il mare e quindi in sicilia chiaramente ha i suoi immensi difetti però ha un grande pregio quello proprio di essere al centro della sicilia quindi ti puoi muovere ti puoi spostare in parti diverse la sicilia in poco tempo rispetto ad altre zone sicuramente dipingerei o un bacio o un abbraccio dipende poi dal dall'attimo preciso intanto è arrivata anche margherita che ti saluta ciao ciao margherita ciao margherita allora correva il 20 gennaio 2019 l'ho trovato e c'è un saluto per la radio dovero da parte di una persona che adesso vediamo la tua reazione ciao 403 stiamo festeggiando speriamo di festeggiare anche con voi un giorno ciao mamma mia mamma mia inizialmente non l'avevo capito subito poi l'ho capito dopo alla seconda terza frase che era lui perché insomma alla voce e avevo sentito diverse interviste o chiaramente ho avuto la fortuna il privilegio di conoscerlo però veramente una persona che fuori dalla malattia insomma è stato veramente un uomo credito conosciuto era veramente stremato perché era uno degli ultimi se non l'ultimo concerto che ha fatto a bologna diretto ed era stanchissimo io gli ho chiesto una foto e mi disse di no proprio perché era veramente stanco però ha fatto questo saluto per la radio bellissimo bellissimo veramente una persona fantastica io una delle cose più importanti che ricordo quando è andato a sanremo una cosa mi è rimasta impressa e che ha detto una cosa diciamo che per ogni artista di qualsiasi tipo chiaramente di arte alla pittura alla musica alla poesia deve essere un motivo in più per fare qualcosa di arte ovvero ha detto io grazie alla mia passione grazie alla mia arte ho avuto il dono un dono quasi impossibile per tutti gli altri che il dono dell'ubiquità io mi trovo in questo momento qui a londra stanno suonando alcuni miei pezzi in america domani si svolgerà un concerto con altri miei brani quindi questo penso sia la cosa più importante più bella del creare qualcosa di artistico perché poi un domani chiaramente nel caso mio delle mostre nel caso di un musicista dei brani hai la possibilità di essere in più posti diversi contemporaneamente di essere presente in più posti contemporaneamente e questo è stato veramente una bellissima cosa oltre tutto quello che ha detto sulla musica il suo brano che era following a bird in quel in quel momento a sanremo tra l'altro diciamo il quadro che hai fatto vedere poco fa era proprio dedicato e prende il titolo da quel da quel brano di veramente una persona fantastica e chiaramente dopo anni di sofferenza si arriva presumo stremate da una una situazione del genere esatto esatto e prima ho fatto vedere ti saluta paolo masaria da trieste che è arrivato ciao paolo quanti pennelli hai e allora è una cosa abbastanza buffa secondo me dei dei pittori tu vai nello studio di un pittore trovi quei tutti questi arnesi tutti questi pennelli tutte queste spatole però difficilmente trovi il pittore che li usa tutti che poi sono diciamo molti sono anche storici molti sono di mio padre molti sono secchi e quindi non non hanno più la loro funzione di pennello morbido con cui poter dipingere bene e però insomma lo studio di un pittore è bello anche per tutta la scenografia che c'è attorno tutte le latte di colore tutti i tipi di colori tutti gli arnesi appunto che fanno parte del laboratorio di un artista e anche lì fanno parte determinati tipi di pennelli io devo dire che ne uso diversi per effettivamente tutti quelli che ho sicuramente non li utilizzo tutti perché poi insomma alla fine è un po come dopo tanti anni che dipingi un po si crea quella quella che si chiama la tavolozza del pittore no quella serie di colori che poi vuoi non vuoi utilizzi sempre e anche la stessa cosa è un po con i pennelli non vuoi poi alla fine utilizzi sempre gli stessi io ho un mio amico pittore sempre qua di cento che poi allo studio altrove ha fatto un'opera d'arte con i suoi pennelli che non usa più cioè ha fatto una scultura praticamente ce ne erano centinaia secondo me certo 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 perché poi come dici te ognuno ha la sua storia e quando uno e poi il discorso di non lo butto ma lo riutilizzo non gli do un'altra vita ne parlavamo l'altra sera in un'altra chiacchierata perché bisogna buttare sempre costo consumismo eccessivo no se può riutilizzare non riciclare ma riutilizzare gli dai una nuova forma una nuova vita un qualcosa come anche te per dire potresti prendere un pennello e lo attacchi sulla tela e gli dipingi sopra esattamente esattamente infatti è pure una cosa che faccio perché diciamo oltre alla pittura lavoro molto anche con questo tipo di collage sono andato alla ricerca dei vecchi colori a spirito che utilizza che ho provato allo studio perché non si butta niente come dici tu e li ho ritrovati dopo tanti anni alle scuole elementari alle scuole medie si usavano in quel periodo e allora siccome chiaramente non funzionano più ho utilizzato la plastica che diciamo la guaina che quella esterna per rincollarli in alcuni quadri e quindi crea quell'effetto in alcuni casi tridimensionale che chiaramente insomma nelle foto non si percepisce ma dal vivo rende effettivamente il quadro diverso così come utilizzo pezzi di plastica in generale così come utilizzo pezzi di stoffa così come utilizzo che ti posso dire carta vetrale che non è più buona per il suo lavoro quindi veramente tante cose che piuttosto che buttarle insomma le riutilizzo incollando le varie parti delle del supporto quindi della tela generalmente o del legno perché alcuni quadri sono pure fatti su sul legno come quello che hai fatto vedere poco fa su suezio boss dice grasina grasina direi come nome salve si è vero il pittore ha tantissimi pennelli io ne ho migliaia è sempre così anche perché poi quando vai nei posti nel tuo riformitore per acquistare un pennello affinché che ne compri 10 così come devi comprare un colore poi ne compri 15 e così via quindi è un accumulo perché poi insomma siamo io quando vado al mio riformitore è come se andassi al parco giochi quindi tre tele di quelle quattro colori di quelli insomma pennelli spatole cose varie alcune che ovviamente serviranno assolutamente ma altre che fanno da scenografia con tutte le altre cose che hai all'interno dello studio comunque vedo che non hai un un colore dominante nel senso quello che ti piace di più li usi tutti bene o male perché alcuni ho visto dipingono per dire solo con tinte di blu solo con tinte di verde solo con tinte bianco e te li usi tutti sì 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 devo dire che sono diversi quadri per esempio in diversi quadri e cerco di utilizzare come base sempre i colori primari quindi blu giallo e rosso iniziando da là poi inizio con gli accostamenti perché poi in determinati quadri si possono notare anche gli accostamenti di colori complementari e colori secondari le terre e quindi insomma ci sono degli accostamenti pure a volte non sempre veramente particolari però generalmente blu rosso e giallo ci sono sempre poi quindi i colori primari poi da lì si scatena il tutto però devo dire che cerco di utilizzarne sempre tanti anche perché visto che anche quella dà l'idea della mia terra della sicilia delle maioliche insomma nelle maioliche più colori metti più più colori metti più sono belle chiaramente anche lì diciamo si deve stare attenti perché si può entrare anche in quella fase del trash se così oggi possiamo definirlo perché chiaramente se non sai gestire bene poi tutti questi colori fa finire che ne esce fuori una maschiata che può sembrare anche è una cosa esagerata quindi si deve chiaramente trovare l'equilibrio giusto che in ogni quadro deve esserci tra i colori scuri tra i colori chiari non c'è niente che deve essere troppo acceso rispetto a un'altra cosa tranno se non lo fai chiaramente volutamente però secondo me in ogni opera c'è per essere un suo equilibrio e quindi quando utilizzi tanti colori è sempre più difficile dire bene ho finito perché sei sempre ma lo aggiungo un altro puntino oppure no vediamo un'altra linea un'altra lettera un'altra qualche altro dettaglio quindi devi essere secondo me in quel caso bravo a saperli gestire bene di fatti ti faccio una domanda che ho fatto anche ad altri pittori quando reputi che un dipinto sia finito ma allora lo reputo proprio quando lo guardo non so cosa cosa avviene nel sistema mentale nel sistema creativo ma proprio non so come ma è una cosa che capisco c'è stato un periodo diciamo subito dopo l'artistico in cui lavoravo con i bozzetti quindi prima facevo dei bozzetti su carta quando diciamo fai questa cosa chiaramente tra virgoletto un po più facile capire quando finisci perché segui quello schema che era il bozzetto che ti eri prefissato e basta questa cosa diciamo è nata intanto da un fattore diciamo di necessità perché l'artistico l'unica pecca che ha un generico liceo artistico e che per tutti i cinque anni generalmente ti impone di creare sempre delle copie d'autore no per farti avere per farti possedere una una tecnica artistica sull'utilizzo dei colori cosa importantissima fondamentale però io penso che almeno l'ultimo anno si deve dare un foglio una tela un cartoncino bianco ai ragazzi e dire fate voi adesso la tecnica ce l'hai dopo quattro anni cerca di creare e di fare qualcosa che veramente dia sfogo alla tua creatività perché poi a finire che quando fai cinque anni di copie molti miei ex compagni ad esempio non hanno mai più dipinto perché nel momento in cui hanno tolto il disegno il bozzetto preparatorio che c'era alle spalle di un'opera praticamente appena ti metti una tela davanti bianca entri nel panico non sai da dove partire quindi inizialmente per sbloccare questo aspetto inizio iniziato a fare diciamo dei dei lavori con il bozzetto poi mi sono reso conto che come capita molti molti colleghi e si parte da un bozzetto che tu immaginavi in un modo e poi man mano che dipingi l'opera e che sistemi colore e tutto poi va a finire che è completamente diverso almeno a me succedeva sempre questa cosa allora anche per sbloccarmi diciamo in generale ho deciso di non fare più dei bozzetti ma di iniziare subito prendere la tela e iniziare a fare tutto quello che in quel momento la mia creatività e la mia sensibilità mi diceva di fare e poi arriva un certo punto che effettivamente lo senti è proprio una sensazione che ti viene da da dentro di dire proprio basta mi posso fermare e quindi è anche lì per esempio il titolo di ogni opera deriva poi forse sono due cose correlate perché io difficilmente faccio un'opera a tema tranne se non c'è un motivo specifico ad esempio spesso trattato il tema della violenza sulla donna quindi ho fatto alcune opere che già nascono e vengono finite su quel tema però generalmente diciamo faccio delle opere sempre a braccio e in quel caso nel momento in cui mi trasmettono qualcosa tanto da affibbiare diciamo da associare anche un nome che poi diventerà il titolo dell'opera dico va bene eh il quadro è sicuramente finito questo questo è il mio studio sì che mi manca parecchio infatti questo fine settimana torno e dipingerò almeno per due giorni e mezzo in interrottamento qui poi chiaramente come ti raccontavo insomma c'è pure tutta la storia della mia famiglia perché comunque tutti i quadri di mio padre in 40 anni di attività e molti quadri mia sorella che tempi aveva fatto l'accademia delle belle arti e quindi ha fatto anche molti quadri adesso diciamo da alcuni anni si è un po fermata a causa concorsi scuola famiglia matrimonio e così via e molti quadri miei quindi comunque ci sono questi tre stili molto molto diversi tra di loro che vanno a decorare insomma questo questo studio formato insomma da da una stanzetta che questa più piccola più un altro garage un po più grande facciamo la ceramica pieno pieno di quadri e di colori e di pennelli e di una raccolta insomma di di 50 anni di di tutti questi attrezzi allora adesso ti faccio vedere una cosa a vedere e ascoltar te sono i dipinti con la barba un po più corta un po più corta ci sono queste nuove tecnologie che a me piacciono è stato sperimentato Grazie a tutti. 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 Era proprio una rivisitazione moderna, grazie alla musica elettronica, del rapporto tra musica e pittura. Una bellissima esperienza. Grazie a tutti. 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 e dipingere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluto a tutti. e ci si trovi.